Una serie di dalle prospettive diverse. Si apre così un 2019 che inizierà nel Gironi con un Bari saldamente al comando con 9 punti di vantaggio sulla Turris e la sicurezza di andare incontro ad un Gironi di ritorno dove si sfideranno soprattutto i numeri più che le avversarie. Nel Gironi H con una pattuglia pugliese all'inseguimento della Lepre che non ti aspetti, il super picerno del tecnico Giacomarro. 13 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte, 37 gol fatti e solo 7 subiti. Si è chiuso così il girone d'andata del Bari con numeri che rappresentano dei record assoluti per la categoria. Nessuno nei 9 Gironi può vantare lo 0 nella casella sconfitte, nessuno può vantare una dipista così ermetica e solo in due, Mantua e Cesina, possono vantare un bottino maggiore dei 43 punti conquistati dai Galletti. Così è terminato il 2018 e così ripartirà il 2019 che vedrà il Bari proseguire un percorso che si concluderà in primavera con il sospirato e immediato ritorno tra i professionisti. Ben più arduo sarà invece comprendere chi a maggio festeggerà la Pro 2 in Serie C dal girone H. Il light motive che accompagnerà la ripresa del campionato fissata per il 6 gennaio sarà quello ormai in uoto dell'inseguimento alla sorpresa Picerno. Dall'audace Cerignura secondo a meno 5 passando per il Taranto terzo a meno 6 fino ad arrivare le più distanziate team Altamura e Bitonto, una pattuglia di formazioni pugliesi proverà a spezzare il sogno di una squadra, quella lucana, che partita dopo partita si è scrollata di dosso l'etichetta di Meteora consolidando un primato frutto di un percorso straordinario e legittimato dagli ultimi due pesantissimi successi del 2018 su Cerignola e Bitonto. Anche se distanti dalla capolista un ruolo tra protagonisti nel 2019 sono pronte a recitarlo Fasano, Fidelisandria, Nardò e Gravina. Le prime tre completano la prima parte della graduatoria alle spalle del Magnifique 5 mentre i Murgiani, seppur attardati, hanno chiuso l'anno mostrando segnali di ripresa da cui ripartire per puntare in auto.